ciao ragazzi si è appena concluso un ottimo weekend di riding dovevo girare un bel poco la bici discesa per riprendere un po di velocità un po di feeling e così ho fatto ho girato tra due bike park sia monte alpet sia viola san gre dove mi trovo adesso ed è stato veramente un weekend produttivo e molto molto divertente prima di lasciarvi il video volevo dirvi di iscrivervi a questo canale perché ci sono un sacco di voi che guardano questi video ma non sono ancora iscritti quindi lasciate un click qua sotto non vi costa niente ecco a voi il video di questo weekend da paura solo riding ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti